Buon martedì 8 novembre. La magica alchimia del club ancora una volta mi ha turbato profondamente e sollecitato a riflettere, meditare su ciò che sta accadendo nella nostra società, nella nostra cultura. Ieri sera al club è emersa una condizione particolarmente interessante, ricca di spunti esistenziali, di riflessioni profonde, di accoglienza dell'altro senza giudizio. Allo stesso tempo si è manifestata la potenza della cultura esistente, la quale parla ancora di alcolizzati, dipendenti, presunzione di moderati, droghe pesanti e droghe leggere, è la terminologia che viene utilizzata dal moralismo della nostra società, la quale è costantemente spinta a conservare l'esistente, ad opporsi inconsapevolmente a una necessaria trasformazione di fronte alla ripetersi di crisi radicali, toccano le radici della nostra esistenza, sia che si tratti di questioni sanitarie, sia che si debba andare a osservare ciò che accade nell'ambiente, il suo riscaldamento climatico, sia che si osservi ciò che accade nella geopolitica, relativamente alla violenza, organizzata dalla guerra, a quale fine? A soddisfare il bisogno famelico degli aspiranti dittatori di turno, i quali naturalmente hanno posture e rappresentazioni di sé diverse da quelle che abbiamo conosciuto in epoche storiche diverse, ma sono terribilmente simili nelle radici. E quelle radici ci riguardano profondamente perché parlano del nostro egocentrismo, della nostra idea che abbiamo forgiato nel corso del tempo, che i sistemi educativi hanno rafforzato, di essere persone capaci di volontà, decisione. Una parola è emersa ieri al club, intenzione, interessante questa parola, dovremmo approfondirla, questa dinamica di intenzione, decisione e volontà, se declinata attraverso una capacità di unio razionale, di dominare la scena, ci porta all'essenza stessa delle problematiche esistenziali che incontriamo, nel nostro tempo, sia che si tratti di comportamenti consumistici e dissipativi allo stesso tempo, sia che si tratti di stati mentali che non rendono possibile un'accettazione di sé alle condizioni date e quindi capaci di, in qualche maniera, reagire. Ci lasciamo andare alla ineluttabilità. Lo fanno tutti. Si ricade, ma come sapete nel club nessun giudizio nei confronti delle ricadute, ma attenzione di lettura che le ricadute ci mettono di fronte con una piena possibilità di comprensione. Non occorre avere pensieri particolarmente elevati, avere diplomi di studio raffinati per comprendere, anzi, molto spesso. Ce lo ricordava Pierpaolo Pasolini. La cultura media o tenebra, la semplicità di quanti si affacciano alla vita con cuore gentile e con la grazia di chi ignora tutto e ne è consapevole. Pasolini parlava dell'analfabeta e questo mi fa sempre ricordare le splendide lezioni del maestro Manzi che, attraverso questa esperienza di alfabetizzazione, metteva in mostra l'estrema intelligenza dei disperati della Terra, coloro i quali avevano vissuto nella prima metà del Novecento senza opportunità di crescita e maturazione che però contemporaneamente hanno saputo conservare la potenzialità della crescita e della maturazione. la fatica che facevano quelle donne, quei maschi, nel leggere un pezzettino di giornale o nel formulare una lettera dell'alfabeto attraverso la scrittura. Quei volti segnati dall'ingiustizia, dall'impoverimento imposto dai ricchi del tempo che non sono diversi dai ricchi attuali, anche se si nascondono quelli attuali, dietro ai paraventi della realtà virtuale. Elon Musk che scende in campo rompendo delle regole di neutralità che dovrebbero caratterizzare i padroni dei social media e invita a votare repubblicano. Elon Musk è simbolo della nuova forma della ricchezza, tutta virtuale, per niente virtuosa. Eppure dietro a questi miliardari o agli oligarchi russi, cinesi, si nasconde il tarlo che c'è nell'essere umano, questa volontà egemonica assoluta. Parlo in nome del popolo, io sono colui il quale garantirà la sicurezza della nazione. Ma chi ti ha detto o chi ti ha dato il mandato di farlo, se non una minoranza che ti ha votato? Questo è il tragico della democrazia, che ha bisogno sempre più di regole decisionari per ottemperare alla necessità imposta dalla velocità della fretta, che è il simbolo della nostra cultura. E quindi questo poi si traduce anche in un desiderio irrefrenabile di coltivare la modificazione dello stato di coscienza in tempi molto rapidi. E quale velocità più significativa si può trovare al di fuori della disponibilità, assoggettandosi, di consumare una bevanda alcolica, ritenendola una droga legale? Anzi, penso che gran parte della popolazione non pensi che una bevanda alcolica sia una droga. È troppo presa via a preoccuparsi per le droghe legali e illegali, definire se sono pesanti o leggeri. È un'abile manovra dei venditori di fumo di ogni tempo, ma in questo tempo i venditori di fumo hanno a disposizione una tecnica sempre più raffinata e sempre più difficile per ciascuno di noi porci, con spirito critico, che però deve tradursi in disponibilità al cambiamento della cultura attraverso la modificazione dei comportamenti che devono passare anche attraverso una fase inevitabile di astinenza. Dobbiamo sgombrare il campo, ma dobbiamo farlo con pazienza, sapendo che ci vogliono tempi molto lunghi, perché i concetti di dipendenza, di abuso, sono ancora largamente presenti nei sistemi professionali e quindi incidono profondamente nella cultura che noi respiriamo, che viviamo giorno dopo giorno. Nel club ieri sera molte persone avevano passato il fine settimana nella ricaduta, magari non di grandi quantità di alcol, ma qui il punto critico è proprio la piccola quantità che segna l'emblema dell'idea del controllo unilaterale, della nostra capacità di controllare la situazione, di essere virtuosamente moderati e naturalmente di additare qualsiasi altro comportamento che possiamo descrivere come eccessivo, moderazione ed eccesso, questa contrapposizione che non mette mano alle radizie della insoddisfazione profonda che la società sta vivendo pur abitando la parte più privilegiata del pianeta. Ecco questi sono gli elementi della magica alchimia del club, una riflessione che ci porta a cogliere la necessità urgente di rivisitare radicalmente il nostro modo di essere al mondo, il nostro modo di interpretare la dimensione dell'amore che è il punto cruciale delle nostre esistenze. Poi dobbiamo toccare attraverso questo il senso della solitudine che non riusciamo ad abbracciare in una prospettiva autenticamente ecologica. Quell'andare soli e insieme al club è che è molto difficile trovare espresso concretamente nella realtà dei club. È un invito ma quell'invito molto spesso viene declinato. Troppe singolarità nel club e troppo poche manifestazioni concrete di relazionalità. Anche questo ha generato domande veramente autentiche, l'opportunità o meno che i bambini partecipino di questo percorso del mondo degli adulti, delle generazioni che li hanno preceduti. A questo proposito ricordo che il club è una prospettiva sistemico relazionale, applica un approccio familiare che non si riferisce semplicemente alla famiglia mononucleare, quella che possiamo ritrovare nei riscontri anagrafici. Parla delle complesse e molteplici relazioni familiari, al di là della famiglia mononucleare, che qualcuno ha voluto anche santificare come elemento di naturalità. In realtà attraverso questa affermazione ideologica, idolatrica, si costituisce una visione della famiglia che genera inevitabilmente una indisponibilità alla relazione autenticamente ecologica. Il Vangelo stesso ci suggerisce di porre attenzione al fatto che molto spesso noi siamo più inclini ad amare profondamente lo stretto ambito relazionale, piuttosto che applicare la dimensione dell'amore all'universale. Gesù ricorda i suoi discepoli che se non lo ameranno, più dei loro parenti, genitori, figli, famiglie potrei dire, non saranno capaci di essere discepoli. C'è un invito alla trascendenza della dimensione dell'amore, altrimenti della relazione, anche affettiva e intima, se ne fa una idolatria che ci consegna alla tragicità della solitudine. Un amore aperto verso la dimensione comunitaria collettiva universale farà sì che le solitudini non siano luogo di alienazione, ma un luogo nel quale ci disponiamo a una molteplicità relazionale. E ricordo il club essendo un approccio sistemico e familiare. Dovrebbe essere capace a non solo invitare, ma a sollecitare costantemente la presenza dei sistemi relazionali, non delle singole persone. E allora lì si apre uno spazio infinito. Per l'attenzione nei confronti dei bambini e delle bambine nel passato mi è capitato di sentire molto spesso, credo sia una affermazione ideologica che appartiene alla contemporaneità, mi è capitato di sentire che non è bene che i bambini vadano al club, perché potrebbero sentire cose molto difficili da sopportare. Quelli che dicono questo si dimenticano che i bambini sono soggetti intelligenti, particolarmente sensibili, che nelle loro case percepiscono tutti i giorni le tensioni del mondo degli adulti. I loro disturbi del comportamento, cosa facciamo? Li allontaniamo? No, li includiamo. E ci esprimiamo, almeno nel momento del club, con la necessaria prudenza, con il necessario discernimento, con la necessaria ponderazione, nei confronti del rispetto della vita che nel suo nascere è proprio interpretata dal mondo dei bambini. La presenza dei bambini nel club ne migliora la qualità, perché il dire degli adulti a quel punto deve inevitabilmente fare i conti con l'innocenza di quei bambini. Sono innocenti dalla nascita. Noi poi li esponiamo agli elementi corruttivi del nostro tempo, fatto di consumismo, di tendenza alla suefazione, ai consumi volutuari, alle modificazioni degli stati di coscienza che hanno come fine, silenziare e oscurare. Le trame del potere. Non le sentiamo e non le vediamo. Non siamo capaci di ribellarci. Ricordo che nel 2001 a Genova decine, centinaia di migliaia di persone, molti giovani, gridavano un altro mondo è possibile, non domani, oggi, furono repressi nel sangue, nella brutalità della violenza del potere, perché il potere ha capito perfettamente che la possibilità di vivere intensamente, passionalmente e concretamente un mondo diverso nel qui ed ora significa porre fine liberamente e pacificamente a quelle trame di potere che si fondano sulla concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochissimi attraverso lo sfruttamento della terra e attraverso l'esasperazione dei consumi che generano inevitabilmente inquinamento. Questi sono gli elementi che io sento di aver colto ieri sera il club e che necessitano naturalmente di un percorso senza limiti di tempo, con pazienza, con perseveranza. Allora il club è un sistema di cura, sì lo è a tutti gli effetti, ma non è una forma tradizionale delle terapie che vogliono forgiare l'altro in conformità a un disegno culturale, del quale si finisce per essere semplicemente, come diceva Gramsci, i camerieri del capitale, dei servi utili al capitale, degli utili idioti che servono un capitale il quale è disposto a mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana per garantire pochi ricchi esasperati ed esasperati, i quali dovrebbero essere semplicemente inviati in qualche club per emendarsi rispetto alla loro tendenza all'appropriazione, una sorta di impulso, che però li lascia sempre costantemente insoddisfatti, non sanno distinguere tra il bisogno e il desiderio. Il bisogno è insaziabile, ci ti sazia per un attimo poi, ti spinge ancora a desiderare, a volere, una famelica forma comportamentale che usa a sproposito le risorse della terra. I club dovrebbero parlare un linguaggio radicalmente diverso e a mio parere possono farlo, possono mettere in scena un linguaggio diverso se sapranno uscire da quella timidezza della solitudine e trovare il coraggio di una solitudine che abbraccia l'universale, come ci insegna il Tao Te Ching e ci insegnano anche i grandi maestri mistici, Rumi, San Francesco. Noi celebriamo molto la figura di San Francesco, ma siamo indisponibili ad accogliere il suo invito radicale alla conversione, alla armonizzazione con la natura e con l'altro nella sua diversità, senza giudicarlo, ma accogliendo nei momenti difficili non solo la necessità di comprenderne il significato, ma allo stesso tempo dare spazio alla possibilità non del cambiamento di quella persona, ma della cultura che ha fatto sì che quella persona finisse per cadere in un abisso senza saperlo. Questi sono i punti cruciali e questa è la difficoltà del club, rispetto alla quale dobbiamo probabilmente rivedere anche il nostro modo di porci nella realtà sociale e politica, non inseguendo ideologie o facendoci incantare da false promesse, ma diventando noi protagonisti, ma senza mai aspirare al potere, disseminando la nostra convinzione che la serenità lo troviamo solo in una serena impotenza nell'agire, agire, fare, modificare il proprio comportamento, anche attraverso un breve passaggio di focalizzazione sulla necessità dell'astinenza, che significa anche fare un piccolo sacrificio, non fine a se stesso naturalmente, altrimenti entriamo una dimensione sacrificale infinita che annoia le persone, quanto le forme di intossicazioni perseveranti e insoddisfacenti, sì, altro termine che è venuto fuori dall'incontro del club di ieri sera e che dovremmo affrontare nella sua radicalità esistenziale, la noia. Ci permettiamo di vivere da annoiati, siamo molto spesso talmente disagiati che autogiustifichiamo la nostra indisponibilità a tirarsi sulle maniche, a trovare il coraggio di un cambiamento necessario e quel cambiamento ha il preciso significato di svelare, coltivare, trovare quell'altro mondo possibile, non perfetto, altro mondo, non il mondo perfetto, un altro mondo possibile nel quale poter coltivare l'autenticità della sobrietà. Buona giornata a tutti e grazie al club per la capacità di generare parole, prospettive, criticità, sollecitazioni costanti e stimolanti verso il cambiamento della cultura inconsapevolmente. Buona giornata a tutti.